Della vicenda che ha riguardato la captazione delle acque del Gran Sasso si continuerà a parlare forse per mesi. È stato un episodio a quanto pare circoscritto a poche ore che però ha provocato molto allarme. L'ASL secondo voi ha fatto bene ad adottare il provvedimento che ha adottato di restrizione, però il problema lì resta ed è un problema di messa in sicurezza di quella zona dove insiste l'autostrada da un lato e i laboratori del Gran Sasso dall'altro. Probabilmente ci sono stati due episodi diversi di contaminazione, una col toluene, il 4 e 5, con concentrazioni basse per la potabilità ma maggiori rispetto ai limiti di legge per l'ambiente. Poi c'è stato il fenomeno lotto, circoscritto solo all'otto dell'acqua che puzzava sostanzialmente, aveva cattivo odore e per questo l'ASL ha chiuso. Perché c'era cattivo odore non si sa. Io voglio ricordare che ci sono più di 100.000 sostanze chimiche, l'ARTA ne ricerca per ovvie ragioni 40 e quindi ci possono stare sostanze non identificate. Noi pensiamo che nei laboratori bisogna fare un ragionamento, noi siamo assolutamente per la ricerca, bisogna fare ricerca, però bisogna fare ricerca compatibile col territorio. Ora nei laboratori sono stoccate 1000 tonnellate di acqua raggia e 1250 tonnellate di trimetilbenzeno, un idrocarburo neurotossico. Ora mettere questi materiali dentro una montagna piena d'acqua comporta gravissimi rischi, perché in caso di incidente rilevante i laboratori sono classificati ufficialmente come impianto a rischio di incidente rilevante per legge. Metterlo dentro una montagna piena d'acqua secondo noi non è la cosa da fare. I lavori di messa in sicurezza che sono stati fatti in passato a questo punto non danno la necessaria tranquillità per quanto riguarda l'acqua potabile? Beh, diciamo che è stato purtroppo fatto un esperimento, sono stati fatti più esperimenti in questi anni e sono tutti falliti, cioè il diclorometano ad agosto scorso è andato a fine nell'acqua con pochissima quantità e ce lo siamo ritrovati nell'acqua, adesso il toluene, poi questa sostanza misteriosa che ha determinato il cattivo odore, precedentemente anche il cloroformio c'è in tracce in alcuni mesi dell'anno, insomma una condizione che ci dice che quegli 80 milioni di euro che sono stati spesi, intanto non sappiamo se sono stati spesi veramente bene, diciamo così, ma sicuramente non hanno risolto il problema.